andiamo in su questa però se la tagliate via le mei dagli una focciata a quella edera le scacche qua perché a fine strada è pulito eh abbiamo pulito tutto allora non solo io è lì andiamo in su, guidiamo, guidiamo noi, lascia di qua loro a pensare vai marco sempre dritto, trova la strada dove vuoi, vedi che spazio faccia qua chiuda ecco 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 è questa ma che cazzo ci mette a fare questa qua? pulire questa qua vuol dire che è una giornata lì si è già capotato anche il max un'altra volta voleva combinare voleva andare su ma l'ha preso di traverso ma poi non gli ha dato ad uscire è curioso li aspettiamo qua perché non so dove si vogliono pulire sotto qua secondo me aspettiamo di qua perché secondo me voglio pulire qua sotto vorrei Grazie a tutti. Grazie a tutti.